Torna, domenica 22 maggio, la Biblioteca delle Meraviglie. La Biblioteca Manfrediana tornerà ad esporre al pubblico gli antichi volumi della propria collezione. Domenica è in programma una mostra dedicata all'archivio Zaul Inaldi e un concerto organizzato in collaborazione con il Collegium Musicum Classense. Alle 10 l'inaugurazione della mostra nella Sala del Settecento, un'esposizione di alcuni dei documenti più interessanti del patrimonio archivistico Zaul Inaldi, una serie di documenti donati nel 1965 alla Manfrediana insieme alla Biblioteca di Famiglia, oltre 17.000 volumi. L'inventarazione dell'archivio risale al 1889. Grazie ai suoi documenti è possibile ricostruire la storia di Faenza. Sono testimonianza dei diritti e privilegi concessi dai sovrani, della gestione dei beni fondiari, delle coltivazioni degli elevamenti, delle relazioni a livello locale, nazionale o con altri paesi. Domenica sarà disponibile al pubblico l'albero genealogico della famiglia Zaul Inaldi, a partire dal XV secolo. Da condottieri in guerra, i Inaldi iniziano ad esercitare un ruolo sempre più rilevante nella vita politica ed economica della comunità faentina, al servizio dei Manfredi, della Chiesa o della Repubblica di Venezia. Proprio da Venezia arriva un altro documento in mostra, datato 31 gennaio 1504, nel quale il doge Leonardo Loredan loda il ruolo dei Naldi nella conquista di Faenza da parte di Venezia, elevando Vincenzo Naldi a cavaliere, riconoscendogli un attantum 2000 ducati d'oro e un vitalizio annuo di 500 fiorini. Il documento più antico dell'archivio risale però al 1169, una richiesta all'arciprete della cattedrale faentina di San Pietro per l'affitto di trappezzamenti di terreno per 60 anni. Particolarmente curioso fra i cimeli in mostra il racconto della sosta a Faenza della regina Maria Casimira di Polonia, in viaggio verso Roma. A Inaldi viene chiesto di ospitare la regina e tutte le persone al suo seguito, un centinaio. A tutti viene assegnata una sistemazione per la notte, a seconda del rango. Un altro documento molto legato all'attualità di questi anni è il lascia passare concesso ad un uomo a servizio della famiglia nobile che ha come compito nel 1722 trasportare da Roma le casse contenenti libri della biblioteca di famiglia e per attraversare diversi stati necessita di un via libera delle commissioni di sanità per certificarne lo stato di salute. Terminata la visita alla mostra organizzata nella sala del 700, alle 11.30 sarà protagonista della nuova edizione della Biblioteca della Meraviglie la musica di Ione Gottfried Mutel, discepolo di Bach. Per la rassegna tasti, ma non solo, Anna Clemente e Giacomo Benedetti eseguiranno le composizioni a due clan milcembali del musicista tedesco.